Questa Gavigliano League, seconda prova, 2600, è un invito la distanza. Cavali al completamento della piegata, Mare Alan arretrato, numero 6, gli altri beni a rete, avvia la macchina in velocità. Chiusura, let me coach, mantiene il comando, parte alla grande Orion che si infila all'argorazio d'Italias, mentre all'attacco della piegata parcheggia l'orazio. Quattordici, un battito, il lancio, e viene via deciso Nonno Borgi con il Caterpillar. E il Caterpillar si presenta, bussa, chiede strada. Allarga Olmer Breed, si va dopo 400 metri, mi sa che il ragioniere vuol correre al comando, parcheggia Nonno Borgi. 30 e 400, ed era la volta di Forino con Olmer Breed, è il targato Breed, freeway, e dopo 600 e leader. 45 e 1, Olmer Breed, let me coach, Nonno Borgi, Orazio d'Italia, per linee esterne risale Montreal B. Si va al completamento del mezzomiglio iniziale, passato in 1, 2 e mezzo, 17 e 3 di tutto respiro la frazione, viene via anche Romanelli a largo con Nitrost. Si va alla chiusura di un primo chilometro, e vi ricordo 2.600 e la distanza, primo chilometro nell'ordine del 18 e 9, 16 e 4 di frazione, controlla agevolmente The Sea, Tu, Eschon Raffo Forino e il targato Breed. Si va a impiegata, leggiamo la frazione di fronte, nell'ordine del 16 e mezzo, 1, 35 e mezzo, 3 quarti di miglio, c'è molto stop, viene fuori una corsa super tattica, gli altri si sono adeguate a largo, capeggiati da Montreal B con Peppino Maisto. E così davanti alle tribune, Homer Breed, Let Me Coach, Montreal, si fa notare Di Nardo, con Moiano che risale la comitiva, punta in avanti il Moiano e va diretto contatto con il leader che accelera. Miglio in 2.7 e mezzo, 31 e 9.400, si va sulla penultima curva, si inizia a pedalare, si cambia musica e registro, e Homer Breed sotto la spinta dell'avversaria allunga. Penultimo rettilineo, Homer Breed, Moiano Spin, Montreal, Let Me Coach, si fa notare Nitrost, che va via in terza ruota, e Romanelli punta in avanti. Frazione di fronte, redditizia in 15 e 3, controlla bene The City, Tu, Eschon Raffo, e il Forino in vantaggio con il targato Breed. Si fa notare anche di Stefano con il Leverweiss. Curva finale, con il leader che allunga e prende una di margine. Tenta lo stack, Homer Breed, Let Me Coach di dentro, allargo Moiano, se ne va per il momento Raffo, Forino, prende vantaggio, Homer Breed in vantaggio, Moiano allargo, allargo Let Me Coach, il palo si avvicina, non c'è più tempo! Raffo, 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 Forino, Moiano Spin, terzo e numero 5, Nono Borgi. Pennella, la griffa del Raffo, la griffa del Raffo in questa seconda manche, va al comando, fa più stop che in go, fa più stop che in go, ma in retta d'arrivo se ne va con un go, 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 baby, go! Pennella, Raffo, Forino. E così il targato Breed, vi ricordo che questa sera il club è proprio dedicato ad Andrea Maisto, il dottore, lui era l'allevatore per l'eccellenza dei Breed, il figlio ne ha seguito le tracce e porta avanti l'allevamento.